Innanzitutto abbiamo la grande novità per i pazienti oncologici che non dovranno più eseguire la PET sull'unità mobile e quindi d'inverno esposti anche se era stato creato una situazione sufficientemente logisticamente valida però comunque si era un disagio per i pazienti e quindi questa è l'offerta importante poi ovviamente grazie anche al miglioramento della dotazione tecnologica sempre migliori risultati diagnostici sempre ovviamente lavorando per salvaguardare non solo l'appropriatezza dell'esame relativamente al percorso diagnostico-terapeutico del paziente e della sua patologia ma anche comunque sia la radioprotezione del paziente e dell'ambiente come peraltro abbiamo sempre fatto in tutti questi anni.